Bentornati su MyFootballJersey. Oggi torniamo in NBA per vedere la maglia City Edition dei Milwaukee Bucks in versione Swingman. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it La maglia è molto bella, l'avevo già vista, l'ho ripresa perché l'altra volta ho sbagliato la taglia e questa nella mia classifica prende 4 stelle. Ottimi materiali, bellissimi i colori. Il corso lo vedete qui sopra che è molto conveniente per una maglia che ha un'ottima vestibilità, un ottimo comfort, colori stupendi e assolutamente da non perdere. Per acquistare la maglia trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Andate a vedere sul sito quali splendide offerte vi attendono. Ora prima di lasciarvi alla parte finale mi raccomando lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media!